Covid-19 in Sicilia, 1.483 nuovi positivi, 27 decessi e 2.455 guariti. A Siracusa 60 casi. In Sicilia sono stati riscontrati 1.483 nuovi positivi nelle ultime 24 ore su 11.536 tamponi effettuati e 27 decessi che portano il totale a 1.616. Nella pianificazione dei contagi fra le 9 province abbiamo Catania 621, Palermo 390, Messina 242, Trapani 70, Siracusa 60, Ragusa 42, Caltanissetta 52, Enna 6, nessun caso da Grigento. Scende la curva degli attuali positivi che adesso sono 39.731, ovvero quasi 1.000 in meno, 999 per l'esattezza. Di questi 1.714 sono i ricoverati, 23 in meno rispetto a ieri, 1.494 nel regime ordinario, 23 in meno e 220 in terapia intensiva, stabili rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 38.017, i guariti sono 2.455. Le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e il numero dei contagi ancora in aumento in Sicilia ci dicono che non è possibile abbassare la guardia. Facciamo appello al Presidente della Regione Nello Musumeci e al Governo nazionale perché in questa fase delicata vengano intensificati i controlli sulle misure di contenimento della pandemia. Lo affermano in una nota congiunta il Deputato nazionale della Lega Nino Minardo, il Capogruppo a Lars Antonio Catalfamo e il Vice-Secretario regionale della Lega in Sicilia Fabio Cantarella. Siamo ancora in piena emergenza, si legge ancora nella nota, e per non ritrovarci nelle stesse condizioni di qualche settimana fa con ospedali pieni, pronto soccorso saturi, lunghe file di ambulanze, occorre un piano regionale di sicurezza rigido affidandosi a tutte le forze in campo e valutando anche la possibilità di stilare protocolli con istituti di vigilanza privati e di associazioni di volontariato per vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni previste dal rispetto delle regole. Evitare che la curva torni a salire significa più controlli ma anche più responsabilità da parte dei cittadini. Il rischio è ancora alto e la terza ondata potrebbe essere ancora più devastante delle prime due, sia sul piano sanitario che su quello economico, conclude il documento degli esponenti della Lega.